Ragazzuole ragazzuole benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi però con un video molto speciale perché come ho detto dal titolo della miniatura Ancora una volta sono la prima ragazza al mondo a raggiungere la real nelle ranked Let's go ragazzi! Ebbene sì ragazzi ormai lo sapete ogni volta che inizio la nuovissima season Io amo essere sempre la prima ragazza al mondo a raggiungere la real Ma devo dirvi la verità che in questa season ci sono davvero pochissimi a real Questo perché probabilmente con tutte le cose che hanno inserito tra le macchine, le balestre, i guanti Molti non sono riusciti a arrancare facilmente Ma noi come sempre siamo riusciti alla star grande Quindi se sono la vostra videogiocatrice preferita mi raccomando ragazzi lasciate tanti pollicioni in su in questo video Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Twitch dalle ore 17 Quindi vi aspetto anche solo per un saluto Ora però ragazzi non perdiamoci più in chiacchiere perché qua avete da godervi un gameplay veramente pazzesco Io vi auguro una buona visione Io l'ando benissimo per qua Sperano di trovare un'arma Morto? No no c'è l'altro dietro Addio non mi è S'è morto Arriva di arrivare Arriva di arrivare Aspetta Dove lo vedo? Aiutami Sei vicino? Ho solo un DMR Che ho preso la kill ma sono DMR Eh anche ho due DMR Vabbè andiamo a cerdo Sì 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 Prendo giusto sta cura Qui 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 C'è uno qui Ha appena salutato una cassa Lo vedo Aspetta c'è no? Straccato Morto Dead dead morto Ok che l'altro mi sta fuggendo Su manito Ok tu mi sei Mi fa di quanti Mi fa di quanti Sucilla? Non lo so Sto ballando Sto ballando 140 140 Ma dai ho messo la scala Messo la scala Che sfiga di merda Ma l'avevo fatto il tato più scala e questo qua saltato Comunque penso Questo stia andando per la card Ma l'avevo fatto il tato più scala e questo qua saltato Ok Non ho fatto curarsi Mia madre C'è il link Sì sì proprio Lo sarebbe l'andare Al mezzo Avviciniamoci È tipo qua È qua Non so che medaglione sia Sarà Penso sia quello della R mitico Anzi no scusami Quello del combat Perché l'R mitico è qua in questo momento Oh no aspetta Quello del combat Che cazzo dico Ma mi chiamiamo la prenderlo Madonna me lo vado a prendere quel medaglione Lascio le sburghi bomb No che cazzo faccio le boogie bomb Eh non ho cura Mi tocca senza Mi scusi No ma non tanto non le uso nessuno Bello 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 Ok penso che stessi Non abbia più problemi di qualsiasi altra Io te lo giuro Niente poi mi va a scatti Non mi corre più Guarda 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 Niente non posso più correre Andata No ragazzi Eh perché c'è X rossa Forse ce l'hai anche tu Sì ma mi va a scatti quando corro Ma che è Vabbè che ieri Neval Non ti è successo Guarda Neval Io e Karin siamo morti Prima di 3 game Tre volte dei pugni E abbiamo chiuso Sì sì noi siamo morti Tre volte dei pugni Ora tre volte Ho medaglione qua Vieni white white Uno di vita Morto Vado al medaglione Vieni qua vieni qua Vieni qua Dove no Vuole andarsene Scappato Sono spittato Una destra e una sinistra Andiamo da quello di destra In casa E poi però me Caccato E' macchina con lui No morto 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 Madonna Vado Va bene il pompone Guarda che pompino Pompino Quello è un pompone No un pompino Va bene va bene Scusa 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 Pompone pompino pompone Mi vado pure a modificarlo Eccolo No E' andato di palestra Sì ma andai di palestra Sessanta uno Se sei ripartato Ah no Ok No lo sta curando Tra un po' li cracco eh Ho tutto scarico Ho tutto scarico Una in macchina Devo farmi la coca Sì Sono pazzi questi Mi stanno facendo solo di guanti Solo di guanti Ah infatti Che gioco ragazzi Ok mi sono fatta la coca Vado a 7 Caccato One hit One hit La skin verde One hit Settanta Merda No alto qua Caccato No sto ballando Alto team Alto team Eh sono morto Non è vero sono ancora vivo Ma non so bene Sto beccando come una caimana C'è qua un problema Mi ho fatto ballare Ti faccio dei mini Eeeh Eccolo White C'è il combat Meticos Ti piace? No guarda Vuoi questo Vuoi questo Vuoi questo 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 lo so che ti piace Sì sì No 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 Ti intanto andiamo via di pugni Andiamo via di pugni Te lo giuro Becchiamo un attimo di qua Qua ci deve essere un cactus Eccolo Quanto è te Dove vai Eh stavo un attimo beccando Sono qua eh Sono davanti Eh sì Questo rumore Perché sento questa parlare Ah sì perché ci hai parlato Tu Oh da me Sticcato sticcato Craccato Craccato il tipo qua Giò no Ti sta arrivando l'altro Ti arriva l'altro Craccato Parto E l'altro è pure bianca Oh è parcio Parcio Ma veramente questo fa Ma cosa pusha che era Vabbè Meglio per noi Faccio 50 di pizza E prendo quello full Aspettami Aspettami a fare Ci sono su di lui quando vuoi Su l'altro Su l'altro Beh su l'altro Ho fatto 91 90 Ho l'altro Devo cercare Craccato Quanta cazzo di gente che c'ha Craccato C'è un'ottimi macchina No dai mi ricarico Ah arrivo da te perché c'è una macchina dietro io Arrivo Arrivo Non ho più buchi Giù di te Io non ho la macchina Oh brava Io build Ho fatto 3 hit alla macchina di balestra Sto praticamente distruggendo quella cazza di macchina Ok Tutti accento le patte Non la vedo Ok non la vedo Sai che è successo? Scusi la macchina è saltata Visto Soltata 70 lui 70 lui 70 lui Ok lo giro con il nitro Gli sparo con la palestra E ti puoi scendere Ti puoi scendere Arrivo 140 140 100 all'altro Morti mio Morto anche l'altro Mamma mia I re Grave comunque camperare Ah ma perché hanno il fore Forecast guarda Dietro 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 Forecast Che cos'è il forecast Forecast Sborga puttano Scusa forecast Mi sta arrivando un bus addosso No che sto dicendo Ma è un bro Si è un bro È un bro Già no Oddio ma è buga prime Morto 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 Madonna va La musica per forza Devevamo farla sul bus Qua dentro Ma no Lì giovani se vuoi Vieni Ma non giornali Non giornali Madonna Ma sei completamente uscita di te Perché no Uno caraccava Mi faccio un attimo di pizza Mi ha detto Mi ha detto L'ho citato Morto 24 white 24 white di nuovo 24 white No uno di vita Bestemmio È morto L'hanno preso Stanno ruotando quelli a destra Questi qua Ora che Guarda lì 23 68 Quanto qua Il primo Il primo Madonna l'ho citato Ti giro l'amico Citato citato White uno Non quello lì È l'altro Vado di pugni Noccato Sono in difficoltà Sono in difficoltà Parto Arriva l'altro team Ok siamo È un team Si si Vado di valenza Si cata la valenza Caccato Ok vado Vado Questo qua Questo qua in legno Continua a sparare Sticato all'altro Fraccato anche l'altro 100 100 questo Continua 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 Non cado Vieni Scemo Vieni anche te Madonna Full peace Madonna Madonna Ragazzi L'abbiamo Non scoppiati Penso Proprio Questa è la definizione Di dominare Chat Spam di gigizio Porco Spam di gigizio Di gigi E anche di Ciao youtube Vi metto pure la chat Sullo schermo Let's go baby Let's go Let's go E ancora una volta Prima ragazza in Italia Prima ragazza anche al mondo Quindi Let's fucking go Mica 250 Siamo pochissime Real Siamo veramente pochi Ragazzulli Siamo giù dal termine di questo video Che io spero che vi sia piaciuto Come avete visto Abbiamo raggiunto la real In maniera abbastanza easy E devo dire che nel nuovo sito Ci sono davvero pochissime real E dato che come ogni season Sono sempre la vostra ragazza Preferita raggiungere la real Per prima in tutto il mondo Mi raccomando Lasciate tanti pollicioni in su Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto Per ora ragazzi Noi ci dobbiamo salutare Ma ci rivediamo In un prossimo video Dalla vostra creata mista è tutto Bella a tutti ragazzi Ciao